Buongiorno, mi amor Come va? Allora, era da tanto tempo, ma Tanto, ragazzi, ma proprio tanto, ragazzi, lo so che non si fanno tanti video, però Che ci possiamo fare? Comunque, sì, avrete No, mo lo avete notato, quello cos'è? Questo qua, ragazzi, è un titanis Cioè, è un uccello Però è incazzato, stranamente Cioè, se io entro, questo mi attacca Il problema, ragazzi, è che questo qua fa un sacco di danno Cioè, per dire, senza l'armatura, mi lascia con due cuori Comunque, oggi siamo dopo tanto tempo nella serie del DSC Si vede che non si pubblicano molto i video E si nota Adesso, ahia, lo vedi quello là? Io forse lo cambierei, ragazzi Sto provando un paio di animaletti Perché io qua ho bisogno di un animaletto Però moriva quello, moriva quell'altro Uno deve sopravvivere Mannaggia E uno, uno Uno solo può sopravvivere Vabbè Allora, ragazzi, oggi nella serie degli SCP Andremo a vedere un nuovo SCP Com'è giusto che sia Allora, ragazzi L'SCP di oggi molto probabilmente So che cosa sia Di cosa si tratta Guarda come mi guarda male Che cazzo Vabbè Ehm Qua che co... Qua intanto voglio vedere un attimino che cosa ho Questa qua tutta è dalla scheda madre biologica Che qua avevo... Ok Allora, ragazzi Andiamo a vedere il nostro SCP di oggi E al primo mettiamo il portale però Che cacchio Cioè, mi stavo scordando della cosa più importante Il portale Complimenti a me Allora, ragazzi L'SCP di oggi È un SCP Apollyon So anche già perfettamente quale sia Perché io mi stavo, ragazzi Allora, vi spiego Io vi racconto Stavo un po' camminando qua Da queste parti Vedendo le celle che Ancora dobbiamo vedere Com'è Quella... Quella là Confondo sempre dove si trova Poi Ce n'era un'altra Eccola là Ce n'era un'altra ancora Ci sono un paio da quelle parti E io andando da quella parte Comunque qui Dovrebbe esserci un'altra No, tra l'altro Vi sa... Ecco Mentre andavo da questa parte Stava quest'acqua qua Quest'acqua strana Che io non so che cosa sia La posso prendere Vediamo un po' che cos'è Cioè, è un'acqua che Noi l'avevamo già vista una volta Per chi Segue tutta la serie Ed è quest'acqua che dà rigenerazione Eh, ok SCP-006 Però è tipo tutto buggato Io mi ricordo anche Che questo SCP Non lo potevi raccogliere Boh Forse questa qua È una version... Un'altra variante Forse questa è la versione Apollyon Boh Chi lo sa? Boh, insomma Lo scopriremo Trovando la sua cella Però mi sa che Questo qua è già scappato Ciao pecorella Però Non pare pericoloso Il che è buono Allora L'SCP di oggi Ed è È proprio qua davanti Vado un attimino più avanti Eccolo là Eccolo qua Qua Guarda qua Vedi che bello Vedi Comunque qua sta un'altra cella Che non mi ricordo di cosa c'era Vabbè La vedremo la prossima volta Sta qua E raga Oggi Ci tocca Questo SCP qua Quello della scala Ragazzi Questa è la scala Apollyon Giuro Non sto scherzando Prendiamo anche un elicottero Voglio vederla dall'alto Raga Cioè Ditemi voi se Questa non è la scala Cioè se quella non è la scala Io sono Un maniaco Cioè guardate raga È palesemente la scala Attorno non ha nessuna imperfezione Sopra Non c'è niente Oh raga niente Questa qua è una scala Nulla Nulla di più Nulla di meno Cioè È la scala Però è Apollyon Madonna volevo fare il trick Non l'ho fatto Vabbè quindi non ci resta che entrare Ok entriamo Vediamo un po' Oddio mi sono spaventato È già qua Io non ho blocchi Vado mi so preso un infarto Io mi ricordavo che questo SCP Ti spaventava Io faccio tappo Allora ragazzi A quanto pare sto qua Che Comunque SCP 0871 È venuto qua Mi sa che lui stava giù Questa raga è una scala diversissima Comunque intanto io ho qua Si SCP 0871 Poi qua c'è il token Che però si chiama SCP 087 Per lo funziona Allora Cosa possiamo fare Mi sa che lui non riesce Ecco Lo posso colpire? Non lo posso colpire Mi ha one shotato Mi ha one shotato Mi ha ucciso Eletro 16 1 2 2 0 È stato ucciso Con colpo così Di cattiveria proprio Qua è morto Ah no eccolo là Quel cazzone Vado raga Cioè Non lo puoi manco attaccare E quello ti uccide Non lo puoi attaccare E questo ti uccide Mamma mia Eh ma come la riprendo Che quello mi ammazza su Cioè io ero full Con l'armatura potente Cazzo il creeper Ok A quanto pare Lui ha ancora Una piccola Il piccone Ma io non mi posso avvicinare A sto qua Ma Scusi Signor mostro Ok Più di così Non posso fare Raga Cioè Perché questo Mi uccide Eh E mo io come la Oddio Non lo so manco io come Aspetta Il piccone Adesso ce l'ha Sembrava passivo Mi ha ammazzato Allora Si è un po' Allontanato Io Vorrei provare A farlo uscire A sto qua Io lo posso Prendere Ah no Lo posso Prendere Con la porta Cioè Cioè boh Io questo Non lo posso Prendere Non posso Fare niente Mi ammazza Io sono anche Stupido Che non metto Il portale Degno di nota Il fatto che Più io Mi faccio Ammazzare E più Mi spacca L'armatura Vabbè Allora Non facciamo I cretini Mettiamo il portale Adesso Allora Io dovrei Esplorare Sta struttura Però Se c'è lui Come Come faccio Facciamo una cosa Magica Creiamo qua Un buco Tac Lo Prendiamo Ok Entrato Mettiamo Il bloc Ole L'ho Contenuto Tac Manca un po' Di blocchetti Beh Allora Facciamo una cosa Magica Per ora Lo chiudiamo E adesso Possiamo Che stronzo Da là Madonna Ma can Vabbè Sono pure io Scemo Che mi sono Avvicinato Spero che non ci siano Gli amici suoi Che sennò Qua È un Casino Hola Mettiamo Seconda mano Dobbiamo fare Attenzione Che quello Là C'è Esiste Parte Della mia Roba È finita Là sotto Mi manca Il piccone Che molto Probabilmente Sarà Sotto Questa Scala Noi Scaliamo Tutta Scendiamo Oddio C'è anche Ah Qua Stanno facendo Una festa Non mi avete Manco Invitato Vabbè Hanno anche Spaccato Mamma Mi so Qua c'è una Bassa luminosità Ah c'è anche Il token Ok Non trovo Il mio piccone Dov'è Il mio piccone Scusate Ecco Questa raga È la struttura C'è C'è Ragazzi Scusate Questa struttura È un Lavirinto Fatto male Con Un mostro Che Meglio Se non Ah Ecco Dove Il mio piccolo Olè L'ho trovato C'è raga Sta struttura Si riduce A Una scala Fatta in Mattoi Manco In blocchi Invisibili Con Un mostro Super potente Forse probabilmente Quella è la Pericolosità Di sto coso Che è più potente C'è la scala Fa proprio schifo Non cambia proprio niente È più forte Quella normale Però il mostro Il mostro Raga È cazzuto È incazzuto È più piccolo Quindi Si muove più facilmente Poi non lo puoi attaccare È Se Se ti fai colpire Ti one shotta Insomma Quello raga E secondo me raga Qua Per me Abbiamo finito anche di vedere Abbiamo distrutto Un pezzo di scala Ma lo sai che c'è Ma chi se le fotte Ma chi se Io raga Direi che Per questo video Degli scp Possiamo dire Che Ok Possiamo dire che Comunque è anche difficile Scalare qua Direi che abbiamo visto Tutto Lasciate un bel Mi piace Se vi è piaciuto Questo video Mi raccomando Iscrivetevi Occhio Dobbiamo fare attenzione Che all'ultimo piano Sta quello Stronzetto E quello Fa un po' Lo stronzino Quindi Occhio No Occhio Vabbè Facciamo una cosa Chiudiamo qua il video Abbiamo capito Abbiamo capito Abbiamo capito